Una gara canora da svolgersi all'inizio di maggio a Sassari, aperta a tutti i bambini fra i 3 e i 14 anni, come occasione per rilanciare l'attività fortemente limitata durante l'emergenza sanitaria. L'iniziativa è dell'associazione di volontariato Coro Sant'Agostino Padre Marco Fabri, nata nel 1996 ed affiliata dal 2001 all'Antoniano di Bologna. Sì, diciamo che dopo due anni di stasi, di fermo per la pandemia, vogliamo svegliare un po' la città e quindi stiamo lanciando l'invito a tutti coloro che vorranno piacere di cantare dai 3 ai 14 anni per fare una gara canora totalmente gratuita, divisa in sezioni dai 3 ai 6 anni, dai 7 ai 10, dagli 11 ai 14, con zecchino e musica leggera, accompagnati dai bambini del Coro Sant'Agostino. Sarà una cosa allegra, divertente, insomma, tanto per muovere un po' le acque, ecco. Un evento che, come detto, vuole rappresentare un momento di ripartenza per il coro, dopo la grande gioia provata nei giorni scorsi per aver potuto partecipare a Roma a un'udienza privata con Papa Francesco, davanti al quale i giovanissimi coristi si sono anche esibiti. Sarevamo 50 cori da tutta Italia, sei dalla Sardegna e uno dal Portogallo. È stata una festa con 1300 bambini che cantavano e ballavano per lui, col piccolo coro dell'Antoniano, direttore da Sabina Simoni, è anche la grande soddisfazione di avere una delle nostre coriste, Viola, che ha fatto un pezzettino da solista con loro. Poi il pomeriggio siamo stati in Basilica ad una messa col Cardinale Baldasseri e l'indomani all'Angelo sono in Piazza San Pietro, quindi una festa meravigliosa, piena di colori, con un sole stupendo. La partecipazione alla gara sarà completamente gratuita. Per informazioni si può chiamare al numero in sovrimpressione oppure rivolgersi alla sede dell'Associazione a Sassari, in via Montegrappa 3, il lunedì e il mercoledì, dalle 17 alle 20.